Un uovo di Pasqua per ringraziare le mamme che hanno donato il cordone umbilicale, un gesto che offre speranze di cura e di vita. L'iniziativa è l'appello a donare del ginecologo Giovanni Gerosolima e del primario di Neonatologia del Moscati, Sabino Moschella. Dobbiamo dare un messaggio forte che ormai il covid, la fase del covid è in parte superata e le donazioni devono aumentare. Siamo pronti, quindi noi come Moscati, a far sì che le mamme donano il cordone umbilicale, ma soprattutto perché c'è poi la raccolta delle cellule staminali. Voglio ringraziare quelle donne che non sono venute a ritirare l'uovo di Pasqua donato dall'abbasco, ma hanno detto tutte quante datele al nido. È un gesto importantissimo, di grande generosità, un gesto che tra l'altro è a costo zero, è gratuito, che però può consentire di salvare delle vite umane e questo chiaramente non ha prezzo, per cui è un'iniziativa eccezionale che noi non solo sposiamo ma che incentiviamo tantissimo. Il sangue del cordone umbilicale è una preziosa riserva di cellule staminali che tra piantate in pazienti affetti da gravi patologie ematologiche o malattie genetiche sostituiscono il midollo osseo e ne generano tutte le componenti. L'appello di una mamma che quattro mesi fa ha donato il suo cordone. Ho donato per una questione di altruismo, perché donando diamo la possibilità a chi ha problemi di poter trovare una cura e per questo motivo l'ho fatto. Donare non costa niente, ho semplicemente compilato un questionario con informazioni che riguardano voi, la vostra famiglia, nulla di particolare e all'atto del parto è una questione dell'ostetrica e del medico di turno che provvederanno a conservare il cordone umbilicale.